Forma 1, gruppo di artisti astrattisti costituito nel 1947 a Roma. Si dichiarava programmaticamente in antitesi rispetto alla corrente neuralista del pronte nuovo delle arti, promossa dai movimenti politici progressisti e da gran parte della critica d'arte. Gli autori si dichiaravano formalisti e marxisti, convinti che i termini marxismo e formalismo non fossero inconciliabili, desiderosi di mantenere una posizione rivoluzionaria e avanguardista senza adagiarsi nell'equivoco di un realismo spento e conformista. Interessati alla forma pura, mezzo e fine del quadro, i membri del gruppo intendevano partire dalla realtà oggettiva per giungere a immagini astratte. Furono presi a modello i maestri delle avanguardie storiche, a cominciare dai futuristi, ma anche artisti stranieri contemporanei come i neocubisti francesi. Dorazio, sperimentatore instancabile, ha creato quadri in cui sottili fili di colore si intrecciano, si allargano in bande, si enunciano in macchie liberamente impaginate entro la tela. Afro si è configurato come rimeditazione sommessamente tonale dell'opera di Braque, Picasso e Matisse. In seguito ha trovato consonanze con la action painting americana. Cassinari dilatò la gamma cromatica rendendola più brillante e emergendola in un gioco di riflessi prismatici. Mirko affinò i propri mezzi sulla scorta di indicazioni cubiste.